Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, siamo alla Grotta delle Apparizioni del Santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Carissimi, e con noi a pregare questa sera, Sua Eccellenza Monsignor Vincenzo Viva, Vescovo di Albano. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Francesco, per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati, anche via melo o via telefono. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria l'Immacolata Concezione attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni. Primo mistero gaudioso, l'annuncio dell'angelo a Maria. Allora Maria disse, Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto. E l'angelo partì da lei. Accostiamoci a Maria e impariamo da lei la vera sapienza del cuore. Maria si è fidata di Dio. Seguiamo Maria e lasciamo che nel nostro cuore sbocci un sì pieno di fede e di sereno abbandono tra le braccia di Dio. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo o così in terra. Naccio oggi il nostro Padre, e impariamo i nostri detti, come amico di diventare i nostri creditori, e non abbandonarci alla generazione, ma non abbandonarci la madre e la madre. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è migliora della nostra morte e amma. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è migliora della nostra morte e amma. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è migliora della nostra morte e amma. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è migliora della nostra morte e amma. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è migliora della nostra morte e amma. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è migliora della nostra morte e amma. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è migliora della nostra morte e amma. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è migliora della nostra morte e amma. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è migliora della nostra morte e amma. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è migliora della nostra morte e amma. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era il tuo ciclo, di Dio, prega per noi peccatori, prega per noi peccatori, prega per noi peccatori, prega per noi peccatori, secondo mistero gaudioso, la visita di Maria a Santa Elisabetta. Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo. Maria, dopo l'annunciazione, resta serena e aggrappata alla certezza che Dio ha in mano le redini della sua vita. Decide di andare da Elisabetta. Seguiamo l'esempio di Maria. Anche accanto a noi c'è qualche Elisabetta che ha bisogno della nostra attenzione. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amo. Al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Amo. Ti vi ciro, sempre, 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 amico. Terzo mistero gaudioso, la nascita di Gesù a Betlemme. Diedi alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia. Se non ho denaro, io sono niente, Così purtroppo pensano tante persone. Però a Betlemme Dio ha clamorosamente smentito il valore del denaro e ha dichiarato stolti coloro che vivono soltanto per accumulare ricchezze. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo o così in terra. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Ave, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, pecatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, pecatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, pecatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, pecatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, pecatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, pecatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, pecatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, pecatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, pecatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, pecatori, adesso è l'ora della nostra morte. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel Vincito, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Quarto mistero gaudioso, la presentazione di Gesù al Tempio. Portarono il bambino a Gerusalemme per offrirlo al Signore, come scritto nella legge del Signore. Il Figlio di Dio, facendosi uomo, non ha voluto per sé alcuna ricchezza, ha voluto soltanto il calore di una famiglia. La famiglia, infatti, è un progetto di Dio, è un sogno di Dio consegnato all'umanità, affinché lo realizzi, lo viva, lo difenda. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il Tuo nome, venga il Tuo regno, sia fatta la Tua volontà, come in cielo o così in terra. Daci oggi i nostri amici, continuiamo, e venite a voi i nostri piedi, come anche noi, che richiamo ai nostri lievitori. E non abbandonaci la tentazione, ma di perciò la madre. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi e per noi, adesso è l'ora della nostra morte. Ami. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi e per noi, adesso è l'ora della nostra morte. Ami. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi e per noi, adesso è l'ora della nostra morte. Ami. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi e per noi, adesso è l'ora della nostra morte. Ami. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi e per noi, adesso è l'ora della nostra morte. Ami. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi e per noi e per noi, adesso è l'ora della nostra morte. Ami. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi e per noi, adesso è l'ora della nostra morte. Ami. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi e per noi, adesso è l'ora della nostra morte. Ami. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi e per noi, adesso è l'ora della nostra morte. Ami. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi e per noi, adesso è l'ora della nostra morte. Ami. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come è il principio, come è sempre, se è sempre che si è scambiata. Quinto mistero gaudioso, lo smarrimento e ritrovamento di Gesù nel Tempio. Dopo tre giorni lo trovarono nel Tempio, seduto in mezzo ai dottori, mentre li ascoltava e li interrogava. Dietro a questo gesto di Gesù, certamente si nasconde un grande insegnamento e un grande richiamo anche per noi. Dio va continuamente cercato. La fede, cioè, è una lampada che va continuamente alimentata, altrimenti si spegne. Padre nostro che sei nei Cieli, sia santificato il Tuo nome, venga il Tuo regno, sia fatta la Tua volontà, come in cielo, così in terra. darci oggi il nostro pane quotidiano, e rimette a noi i nostri debiti, come anche noi, rinunciando ai nostri creditori, e non arricchiamo la tentazione, ma di giustizia la madre. Amo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, vera per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, vera per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, vera per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amo. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, Preghiamo ancora per il Santo Padre, Papa Francesco, e per le sue intenzioni. Padre nostro che sei nei Cieli, sia santificato il Tuo nome. Venga il Tuo regno, sia fatta la Tua volontà, come in cielo, così in terra. Lasci oggi il nostro Padre, e veni a noi i nostri detti, come anche noi che ti amano e non abbandonarci la distrazione, ma inizia la città umana. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prego e raggiungere i peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Venere di Ciccino, e sempre, e sempre, e sempre, e sempre, salve Regina, Mater, misericordiae, vita dolce, e sempre, e sempre, nostra salve. Ad te clamamus, exules fili e ve, ad te suspiramus, gementes enflentes, in ac lacrima rumbale. Eia ergo, advocata nostra, illos tuos, misericordes oculos, ad nos converte. Et Iesum, benedictum fructum ventris Tui, nobis, posto che silium, o steve, o clemens, o pian, o dulcis, virgo Maria. Tu che mi ami così come sono, e non come mi sogno, aiutami ad accettare la mia condizione di uomo limitato, ma chiamato a superarsi. Insegnami a vivere con le mie ombre e le mie luci, con le mie dolcezze e le mie collere, i miei sorrisi e le mie lacrime, il mio passato e il mio presente. fa che mi accolga come tu mi accogli, che mi ami come tu mi ami. Liberami dalla perfezione che mi voglio dare, aprimi alla santità che tu vuoi accordarmi. risparmiami i rimorsi di Giuda, che rientra in sé stesso per non uscirne più, spaventato e disperato, di fronte al proprio peccato. Accordami invece il pentimento di Pietro, che incontra il silenzio del tuo sguardo, pieno di tenerezza e di pietà, e se devo piangere non sia su me stesso, ma sul tuo amore offeso. Signore, tu conosci la disperazione che corrode il mio cuore, il disgusto di me stesso, che proietto sempre sugli altri. La tua tenerezza mi faccia esistere ai miei stessi occhi. Vorrei spalancare la porta della mia prigione che io stesso chiudo a chiave. Dammi, Signore, il coraggio di uscire da me stesso. Dimmi che tutto è possibile per chi crede. Dimmi che possa ancora guarire nella luce del tuo sguardo e della tua parola. Amen. Nostra Signora di Lourdes, Maria, Regina della Pace, Santa Bernadette, Il Signore sia con voi e con il tuo spirito sia benedetto il nome del Signore e ora e sempre il nostro aiuto è nel nome del Signore e che ha fatto cielo e terra vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. O Vergine Maria, Regina del Cielo, All'Urd ritorna il popol fede. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato. Grazie. Grazie.